Ehi, sai che? Ma sai che? Cosa è successo? Mi hanno licenziato! Maledetti immigrati! Osti! No, ma fammi capire, adesso prendono gli extracomunitari a fare i securini? È uno scandalo! Proprio così mettono i ladri a fare le guardie! Pensa che c'è persino un africano! Perché ricorda, non tutte le guardie che rubano sono straniere, ma tutte le guardie straniere rubano! Giusto, Boris! E non le assume soltanto la Persegur, ma anche tutte le altre agenzie per cui stai all'occhio! Te che resum! Guarda gli ospedali, i bar e i ristoranti! Siamo circondati! Sì, però anche noi ci dobbiamo impegnare! Basta dargli da mangiare! Con tutti i volonterosi ticinesi che ci sono in giro! Bravo, giusto, Boris! E invece no! Noi mettiamo i neri a fare le guardie, i kossovari nei cantieri, i frontalieri sono come funghi, per non parlare poi delle badanti rumene! Giusto! Bravo, Boris! Bravo, bravo, bravo! Bravo, Ivan! Ma la badante di tuo nonno non è rumena? Ma chi, la Petra? Sì! Ma lei è brava! Ma è rumena! Ma è più brava che rumena! Ma che cos'è questo sentimentalismo? Oh! Ma guarda che è così che comincia, sai? Te le trovi a casa, sono allegre, compiacenti, divertenti, sei contento perché passano loro tutto il giorno con tuo nonno e tu vai a farti dei giri e poi dopo 5-10 anni tuo nonno muore, di vecchiaia, forse, e a chi lascia tutto? A me, sono l'unico nipote! No! Lascia tutto a Petra, la rumena! Allora non sono sentimentalista! E allora dimostrami che sei un leghista! Licenziala! Ma dopo se lo fa il nonno! Lo curro io! Ma davvero lo faresti? Guarda che è un lavoro che alle volte uno dice sì, io vado, faccelo, però non è che uno calcola... Stai forse dicendo che preferisci una qualunque rumena a me che sono un tuo collega, amico, nonché leghista patriota ticinese? No! Mai! E allora affare fatto! Mai! Ma come sei già qua? Ma hai fatto le pulizie? Nonno ha mangiato, gli hai dato le pillole? Ma sì, stai calmo, ho fatto tutto! Non così poco! Sei velocissimo! Ma guarda che io sono rapido ed efficiente! Qualità leghista! Qualità leghista! Ma nonno sta bene! Sì, l'ho lasciato che dormiva come un bambino! Dormiva! Sì! Adesso è trincesimo! Latri, latri! Ma stagli! Tu nonno era tranquillissimo! Anzi, è una persona squisita, serena! Ma questo è un bel lavoro! Adesso ho capito perché quegli scansafatiche degli stranieri corrono per fare i badanti! Perché alla fine la verità è che si riposano! Ma sono contento che ti piaccia! Anche se a me è un lavoro così bello non sembra pulire i bisogni del nonno, insomma... Pulirlo? Oh, ma c'ha mica due anni, è adulto e vaccinato! Si pulisce da solo! Ma non l'hai pulito? Guarda che dovevi dargli anche da mangiare! Ma sono il suo badante o il suo cuoco? Abbiamo anche guardato la televisione, poi a un certo punto si è addormentato, io ho spento e sono venuto qui! Sei sicuro che dormiva? Di pomeriggio? Sì, dormiva di pomeriggio! Che male c'è! Ma gli hai dato le pillole? Quali pillole? No, no! Cliccissimo! Non riesce... Nonno! Scangialo! Onesto badante ticinese licenziato per far posto a uno straniero, Bignasca! Dopo gli infermieri stranieri anche la tratta dei malati! I malati nel Chad vanno in Libia, i libici nel sud Italia, i meridionali al nord e quelli del nord vengono a tossire oltre Dogana e noi paghiamo! E questo è il Ticino che vogliamo! Fera di mal! Ha ragione il nano! Leggisti!